Sei su Polignani Podcast, il posto giusto per voltare pagina. Buongiorno a tutti, bentornati su Polignani, vita da editore. Oggi sono qui con il mitico Gianluigi Ballarani. Ciao Gian! Ciao, ciao Corrado, ciao a tutti gli ascoltatori, i podcasters. Oh yes! Che siete in auto, che siete in aereo, che siete in treno, che siete a casa, che siete sul WC, noi siamo qui per voi. Come stai Gian? Bene, bene, devo dirti, è un periodo felice questo. Vedo che hai i capelli di un blu rinnovato. Ti ho diventato un Super Saiyan God blu. È bellissimo, è meno azzurro ed è più blu dell'altra volta, è fantastica. Sì, perché è la seconda dose questa. Bellissimo! Gianluigi, allora, è imprenditore di tutti i tipi, possiamo dire, dopo, anzi, vi chiederò di parlarcene un pochettino. E quindi per quelle pochissime persone che non ti conoscono, ecco, spendere due parole su... I miliardi di persone, diciamo la verità. Su di te e soprattutto sui nuovi progetti, perché qui c'è roba bella che bolle in pentola, vero? Parola a te. Sì, sì, beh, diciamo che mi sono occupato di imprenditoria da quando sono uscito dalla scuola militare, ho iniziato a studiare economia e quindi da lì in poi fino ad oggi, sono passati tanti anni, era il 2006, mi sento vecchio, ma ho i capelli blu. Mi sono venuti fuori i capelli blu e poi, insomma, ho fatto tante cose. Ora, la cosa su cui stiamo lavorando è un progetto che tu conosci, tra l'altro, che è Udilis. Decisamente. Esattamente, quindi sì, sono quasi quattro anni che c'era dal 2017, dalla prima volta che abbiamo iniziato a lavorarci e finalmente oggi, 2021, abbiamo lanciato e quindi siamo nel community launch, l'abbiamo chiamato così, l'abbiamo lanciato a giugno. Sai, d'estate in genere non si lancia nei progetti, così si dice. Così si dice. E invece noi, tutti i lanci più grandi li abbiamo fatti sempre d'estate. Mi capisco benissimo, perché ho sempre dei lanci editoriali potentissimi durante l'estate. Quando invece nessuno fa uscire niente. Controcorrente, controcorrente. E quindi, diciamo, per tutti quelli che non lo conoscono, per ora Udi, che vuol dire Human Data Income, è un progetto che sta creando un reddito basato sui dati personali. Udi, per questo Human Data Income, Udi. I nostri dati hanno un valore immenso di cui non abbiamo consapevolezza generalmente, non ne sappiamo niente, a meno che non siamo addetti ai lavori, quindi magari chi lavora nel marketing o nel data broker e già lo sa, però per la maggior parte delle persone è un qualcosa di nuovo e sconosciuto, ma anche perché non ci sono neanche i mezzi per avere indietro questo valore generato nei nostri dati. E quello su cui stiamo lavorando è proprio creare un mercato di dati aperto, accessibile a tutti, che porti trasparenza e controllo dei dati ai legittimi proprietari che, guarda caso, siamo noi. È presente quando dicono, se non sai qual è il prodotto, il prodotto sei tu. Il prodotto di Facebook siamo noi, ma sono i nostri dati e anche la nostra attenzione. E quindi, Udi. Udi. Udi, quindi per chi appunto non l'avesse ancora conosciuto, seguitelo pure su LinkedIn, su Instagram, ovunque, perché sono super sul pezzo. E poi perché da settembre, se non sbaglio, ci sarà qualche piccola novità, no? Eh sì, allora ti racconto brevemente come sta andando la roadmap. Siamo, abbiamo lanciato a giugno, un lancio proprio per, un lancio della community l'abbiamo chiamato, perché il lancio vero e proprio ci sarà a settembre, poi non è vero e proprio, però stiamo emettendo una cripto con Udi, che si chiama proprio Udi, sarà l'Udi token, su blockchain, Binance, quindi sarà un PEG20 per i tecnici se c'è qualche nerd e tutti gli altri li abbiamo persi, corralto. Quindi, vabbè, quindi il 15 settembre c'è il lancio della cripto e da giugno a settembre per lanciare questa cripto abbiamo fatto questo community launch in cui l'idea è stata questa, io mi occupo di marketing da tanti anni, abbiamo un'agenzia di marketing che è stata un po' il nostro fiore all'occhiello, quello che ci ha permesso pure di accumulare tutta l'esperienza per conoscere il mercato dell'advertising, il mercato dei dati, perché abbiamo fatto lead generation, che vuol dire generazione di contatti di potenziali clienti, poi di fatto sono pacchettini di dati, quando tu inserisci i tuoi dati su un forum, su un sito, stiamo dando dati a qualcuno. In un mese e mezzo, ora ecco, quasi due mesi, abbiamo quasi 100.000 utenti, abbiamo superato i 90.000 utenti e poi il 15 settembre verrà emessa proprio la cripto e sarà a disposizione di tutti nel mercato, anche se è un po' diverso come progetto cripto perché si basa appunto su un'economia reale, sul valore dei nostri dati, quindi è chiaro che ci saranno tutte le dinamiche proprie delle cripto, del fatto che poi è nel mercato, quindi ognuno fa quello che vuole, il prezzo può salire e può anche ricrearsi l'effetto bitcoin, il fatto che viene emessa a 37 centesimi e poi può arrivare alle stelle proprio perché, e questa è una cosa molto interessante, che oggi per la prima volta le economie monetarie non sono più fatte da grandi funzionari degli stati, cioè fino a poco tempo fa, creare un'economia monetaria, una moneta, è una cosa che facevano come gli stati. Col faccione sulla moneta. Noi abbiamo messo una rana sulla nostra mascotte, il dat boy, che è quella rana che sta sul monociclo. E quindi la cosa interessante è che se le monete fiat, quelle che vengono chiamate fiat, l'euro, il dollaro, eccetera, sono soggette a inflazione perché non hanno un numero definito di monete, vengono stampate tutti i mesi, vengono stampate, quindi ogni anno vengono immesse nuove monete nel mercato e questo porta all'inflazione. Pensa che dal 25 al 40%, ci sono diverse analisi, dal 25 al 40% dei dollari in circolazione sono stati creati negli ultimi 12 mesi, per salvare chiaramente l'economia dal covid, da tutti i problemi del covid. Però cosa comporta questo? Che come sai, cioè se ci sono più monete, le singole monete valgono meno, ovviamente. Questa è l'inflazione, il fatto che oggi vendere una macchina usata, è uscito questo articolo su Wall Street Journal, che oggi vendere una macchina usata, praticamente la vendi al prezzo di quando l'avevi comprata in America. Questo è uno degli effetti dell'inflazione, non solo, ci sono anche altre dinamiche che stanno accadendo con dei problemi nei materiali, insomma nel reperire materiali proprio per tutto il ciclo di creazione che è stato interrotto dal covid. Però ecco, tornando al punto, il fatto interessante è che creare una moneta deflazionaria vuol dire che c'è un numero limitato di monete e quello è, più persone vogliono avere quella moneta, più il valore di quella moneta aumenta. È quello che è successo con il bitcoin, quindi ci sono solo 21 milioni di bitcoin al mondo, basta, basta, e poi invece di esserne creati altri, al massimo diminuiscono questi bitcoin, non è che vengono cancellati, ma magari qualcuno si perde l'accesso al portafoglio dei propri bitcoin, qualcun altro muore e non ha passato a nessun altro il proprio portafoglio. E quindi chiaramente aumentano di valore. E poi essendo un libero mercato, più persone vogliono quella moneta, più aumenta il prezzo. E quindi chiaramente questo è l'effetto collaterale, diciamo, che può avvenire pure per Udi. Straordinario. No, è straordinario anche perché il concetto base, ed è lì secondo me il focus della discussione, a parte il valore monetario, che comunque è significativo ed è importante quando si fanno degli investimenti e quando si parla comunque di moneta, ma è la questione dei dati. Tu l'hai detto un pochettino così, quasi in sordina, per chi però ci ha ascoltato penso che gli abbia un attimo svegliato le antenne, perché la questione dei dati, che oggi i nostri dati girano ovunque, ovunque, si accettano i termini e le condizioni senza mai leggere i termini e le condizioni, quindi i nostri dati girano liberamente. Ma la cosa, come dire, non ci pesa, o meglio apparentemente non ci pesa, perché diciamo, vabbè, tanto dei servizi, posso guardare delle cose gratuitamente, quindi spiegatevi pure i miei dati, che me ne faccio io, eccolo, ok. Però qualcun altro, come giustamente dicevi, su quei dati lì non solo fa un, diciamo, un lucro, un guadagno proporzionalmente corretto, è qualcosa di esponenzialmente superiore rispetto a quello che dopo in realtà è la nostra contropartita nei servizi, nell'utilizzo dei servizi. E quindi questo gap inizia, e anzi inizia, ormai è già un problema, è un problema molto grosso, e qui Udi praticamente si mette un attimino in dettaglio e dice, oh ragazzi, guardate che però questo valore non è soltanto di voi che usate questi dati per fare marketing, fare pubblicità, per fare soldi fondamentalmente per conto terzi, ma sono anche dei proprietari, quindi entra in gioco un pochettino per sommi capi di diritto d'autore, non in qualche maniera, siamo proprietari. Il diritto proprio di proprietà, il diritto di proprietà, sai come si dice, i dati sono il nuovo oro, qualcuno dice sono il nuovo oro nero, il nuovo petrolio, il punto è che la miniera da cui questo oro, questo petrolio viene estratto, attenzione, attenzione, siamo noi, cioè noi siamo la miniera d'oro, capisci? E' praticamente il sogno cyberpunk degli anni 90, qualcosa del genere, io non so se l'hai mai visto, guardavo tanto una miniserie che si chiama Serials Experiment Lane, 10 puntate di un altissimo impatto filosofico unanime, dove proprio si parla fondamentalmente, ma anche Matrix stesso, della commistione tra macchina e essere umano, dove c'è la produzione di energia e insomma dove l'io diventa anche qualcos'altro. E in questa macchina complessissima della rete, che tra l'altro a me impressiona pensare quanto giovane è, cioè non ti sembra che è qualcosa di sovradimensionato rispetto proprio alla comprensione mentale di noi esseri umani? Sì, finisco di rispondere alla domanda prima e poi entriamo in questo tana del bianconiglio che hai appena indicato, perché tipo no, vogliamo entrare qui dentro, io ci entro volentieri, entro dappertutto. La cosa ecco che forse per fare un po' di chiarezza sul mondo dei dati, considera che ogni minuto vengono scambiati, comprati, venduti un milione di euro dei nostri dati, ogni minuto. Parliamo di un mercato che genera oltre 1.300 miliardi all'anno, quindi parliamo di numeri spaventosi, più di un triliardo l'anno e il punto, come dicevi giustamente tu, è che tutto questo valore generato dai nostri dati oggi finisce nelle mani di pochissimi, che sono i nuovi conquistadores, quelli che sono andati nelle americhe, hanno preso l'oro dai nativi, che gli davano un altro valore all'oro, anche perché non aveva lo stesso valore che avevano nell'America, e l'hanno preso in cambio, non so se sai questa storia, in cambio di perline e di altri piccoli oggettini che nel vecchio mondo non avevano valore, ma per loro le vedevano queste perline colorate, queste cose, e gli sembravano più interessanti. E quindi ecco, quello che sta avvenendo fino a oggi, fino diciamo in questo momento, è che noi veniamo, siamo veramente ecco delle batterie di dati, come in Matrix che viene estratta l'energia, in questo caso a noi vengono estratti i dati in cambio di giostre, cioè ci sono delle giostre che erano prima giostre di attenzione, quindi come Facebook, no? Cioè attenzione e tu vendi pubblicità. Oggi invece l'asset di maggior valore sono i dati, sono un asset che proprio ha un valore economico, genera del valore economico, ma noi non riceviamo nulla, zero, ma non solo, Corrado, perché questa è la cosa proprio più evidente, cioè io non ho mai preso un euro per i miei dati, ma non solo, io non ho idea di chi ha i miei dati, non ho idea di quali dati ha, a chi li vende, a quanto li vende, come li vende, cosa ci fanno con questi dati, quindi questa è una rivoluzione che sicuramente, ma sta già avvenendo a livello culturale, se faccio riferimento, poi a livello culturale ormai vuol dire documentari su Netflix, esatto, libri, documentari su Netflix, se pensi The Great Tech che racconta la storia di Cambridge Analytica e fa vedere come sono stati rubati i dati di, non vorrei dire cavolate, circa 80 milioni di persone che Cambridge Analytica ha poi utilizzato per fare marketing e influenzare queste 80 milioni di persone sulla campagna di Trump, che poi, guarda caso, ha vinto pure le elezioni, stessa cosa è successa con Brexit in UK, quindi i dati hanno un valore pratico, nel senso che possono essere utilizzati bene per fare tante cose nella società di oggi e hanno un valore economico molto concreto e come facevi tu l'analogia, io la vedo assolutamente così, come se io faccio una canzone, ho dei punti, si chiamano proprio punti, dei diritti su quella canzone, quindi in qualsiasi posto quella canzone venga riprodotta, venga acquistata, venduta, io come autore ho i diritti d'autore quindi prendo delle royalties. Allora la domanda che ci siamo posti nel 2017 è perché non dovrebbe accadere la stessa cosa con i nostri dati? Dovrebbe accadere esattamente la stessa cosa ed è per questo che stiamo lavorando subito. Poi se vuoi ora entriamo nella tana del bianco bianconiglio di cui parlavi bene. Perché no? Su come il mondo è così evoluto che non ce ne rendiamo conto. Sì, questo qui è il punto. Allora facciamo una cosa, spostiamo un attimino ancora il bianconiglio perché mi hai fatto venire un altro topic. Abbiamo detto che poi si collegano e la crescita è stata veramente esponenziale negli ultimi anni, nel 2017 insomma, quindi abbastanza, come dire, abbastanza anche vicino alla nascita di questo mondo nuovo, chiamiamolo così, anche delle cripto. Perché ora si parla, oggi tutti parliamo di dogecoin, di bitcoin, come se fosse la pasta con le olive. Ma in realtà quattro anni fa non era esattamente così. Era molto più di nicchia. Facebook era nato da dieci anni, quindi insomma non è che stiamo parlando di chissà che cosa, ok? Di quanto tempo fa. Però secondo te, come mai le nazioni, la comunità europea, gli Stati Uniti d'America, forse anche la Cina, adesso non lo so. Però perché quando in realtà si parlava già di questi discorsi qua, che tra l'altro tu prima dicevi che influenzano anche il mondo finanziario, economico, insomma hanno un peso importante per quello che riguarda la profondità dell'identificazione della persona, ok? Quindi di cui è garante uno Stato, non un'azienda privata. Noi oggi invece siamo portati per marketing a fidarci più di un'azienda privata che non di uno Stato, qualunque Stato sia. Io non troverò mai nessuna persona che direbbe no, io mi affido al mio governante piuttosto che di Amazon. Per quanto riguarda queste cose qua, anche perché fanno una politica molto forte sulla privacy, sui dati tranquilli, siamo bravi noi, dateceli pure, ok? Quindi mi chiedo come mai in questi anni, quando voi nel 2017 avete avuto quest'idea, quest'intuizione brillante, secondo te non è stata presa o quantomeno non è stata avuta da qualcuno che in realtà quei dati lì dovrebbe proteggere prima delle aziende, ovvero la politica? Allora, domanda molto intelligente. Il punto qual è? È che intanto c'è da dire che soprattutto l'Europa ha creato un regolamento della GDPR, che abbiamo conosciuto tutti perché dovevamo aggiungere quella del sito, perché praticamente lo spam di internet, cioè devi mettere la cosa, clicchi ok e basta. Questo è il grande problema, questo è un problema immenso che va pure a braccetto con la cosa che stavamo dicendo prima di come va veloce, vanno veloci tutti questi layer tecnologici. Quindi da una parte c'è da dire che i regolatori, soprattutto in Europa, che abbiamo veramente il regolamento migliore al mondo sulla privacy, stanno cercando di arginare, mano a mano che lo capiscono, questo nuovo mondo e cercare di mettere dei paletti. Perché primo punto è un mondo nuovo, è un mondo nuovo. Quindi io credo che quando Mark Zuckerberg ha aperto Facebook, lui non avesse la minima idea del valore dei dati che avrebbe creato da qui a dieci anni e dell'asset che questi dati avrebbero, diciamo, avrebbero rappresentato per l'azienda. Secondo me non ne aveva la più pallida idea. E quindi questo è il primo punto. Le cose cambiano così velocemente che si sono ritrovati questo oro immenso in mano e nessuno sapeva che avrebbe avuto questo impatto. Poi sì, si parla di data da tanto tempo, però poi all'atto pratico ecco c'è questa considerazione. La seconda cosa è che appunto i regolatori quello che possono fare è regolare, quindi mettere dei regolamenti e si trasforma per le aziende nell'allungamento o nella modifica dei termini e condizioni. Quindi tutte le nuove norme di fatto, alcune sicuramente hanno limitato delle cose scorrette che venivano fatte, dell'utilizzo malsano dei dati che venivano presi eccetera, però oggi semplicemente allungando i termini e condizioni tu comunque devi cliccare su accetto per utilizzare un servizio. Accetto i TOS, i termini term of service in inglese li chiamano. E qual è il problema? È che questi termini e condizioni sono lunghissimi. Pensa che i TOS di PayPal sono più lunghi del Macbet di Shakespeare. Bisognerà metterli in inglese. Adesso dobbiamo fare un spettacolo di stand up in cui si leggono i termini e le condizioni di servizio di PayPal. Allora ti racconto questa cosa qui. Su iTunes, che sono più lunghi dell'amleto di Shakespeare, i termini e condizioni di iTunes, ci sono stati sette avvocati che per una settimana sono messi a leggere tutti i termini e condizioni e alla fine di questi sette giorni non sono riusciti chiaramente a dire quello che veniva accettato e non veniva accettato. Quindi per dire non sono lunghi, sono anche complessi. Però di fatto basta che tu aggiungi termini e condizioni, clicchi e poi fanno come gli pare. Adesso lo sto semplificando proprio per farlo arrivare a tutti questo concetto. Quindi il problema è questo, un problema reale. E il motivo per cui secondo me arriva prima l'impresa, il mondo dell'impresa rispetto alla politica, è che oggi il mondo si muove alla velocità della tecnologia e la tecnologia lo fanno le imprese. E quindi questo è il motivo per cui con Udi abbiamo deciso di adottare non una via politica. Andiamo a fare la cosa in piazza, no. Cioè per un problema creato da una società tecnologica del capitale bisogna lavorare allo stesso livello. Diciamo noi abbiamo cercato pure di andare proprio all'edge, al margine di questo livello, cioè cercare di utilizzare le cose più avanzate, appunto la tecnologia blockchain, la mentalità anche blockchain. Perché come dicevi tu nel 2017 non è un caso che Udi sia nata nel 2017, quando la prima grande onda delle crypto è arrivata. Tant'è che Udi all'inizio dovevamo lanciarla con un ICO, che vuol dire Initial Coin Offering, quindi creare una moneta. Già era quella l'idea di Udi, proprio perché il mondo crypto ti insegna a pensare in questo modo qui, ti insegna a pensare come community. Non so se hai presente quel meme che dice che c'è il pesce grande che rincorre tutti i pescetti piccoli e c'è scritto don't panic e sotto la seconda immagine sono tutti i pescetti piccoli, tutti insieme che formano un pesce ancora più grande e si mangiano il pescione. Cioè don't panic, organize. E questa è l'idea delle crypto, che è l'idea della decentralizzazione, che oggi noi da soli siamo piccoli, siamo deboli, non contiamo niente, ma se noi ci uniamo, se noi ci organizziamo, noi possiamo cambiare il mondo. E se questa cosa qui è valida non servono le crypto per dimostrarlo, cioè tutte le grandi rivoluzioni sono nate da poche persone che si sono organizzate e sono riuscite poi a muovere altre persone. Oggi invece con tutto quello che si sta creando con il mondo, con la decentralizzazione, con il mondo crypto, è che abbiamo ancora più strumenti per avere questo impatto. E quindi nasce per questo motivo una soluzione che nasce un problema creato dal nostro sistema economico finanziario, dal nostro sistema capitalista poi di fatto, nello stesso mondo, ma invece di fare come Facebook, che il 90... sai che Facebook su 100 euro che guadagna, su 60 miliardi che guadagna, il 90% è profitto. 80-90%, poi dipende da come spendono i soldi. Però parliamo di... cioè vai a fare la guerra a Facebook, qualsiasi azienda, cioè quanto ha di profitto? Pensa che di media se uno ha un 10% di profitto è considerato un buon profitto per un'azienda. Se è il 30% sei proprio... sei in brodo di giugiole e stai facendo un lavoro straordinario. Loro fanno l'80%, ma è una condizione in cui si trovano tutte queste aziende che vengono chiamate data giant, i giganti dei dati, proprio perché loro vendono dei prodotti di cui non pagano le materie prime. Certo. E questo è il punto. Se tu vendi libri, tu devi prendere l'autore, tutta la revisione, tutto quanto, devi stamparlo, devi confezionare. Loro, no, non siamo noi i prodotti e non riceviamo niente in cambio. Sono dei tramiti fondamentalmente. Sono disposto. Altro che, altro che, altro che. No, no, altro che. E poi probabilmente ecco, questa qui sarà la... tu dicevi che la Comunità Europea ha tra i sistemi, diciamo, di coordinamento legislativo più avanzati al mondo in termini di tutela della proprietà identitaria e insomma anche dei propri dati. Quindi da questo punto di vista, anche in relazione alle prossime passi che ci saranno in termini di copyright, nel prossimo triennio, insomma, si parla di cose importanti per questi big dei data, dei dati. Data giant. Esatto. Dal lato invece, quindi, tuo e vostro, di Hudi, secondo te com'è che verrà, come dire, si inserirà all'interno di questo meccanismo qua? O meglio, potrà inserirsi, vi interesserà inserirvi in quel meccanismo lì anche? Eh sì, adesso cerco di spiegare semplicemente perché comunque è un argomento abbastanza complesso tutto questo mondo dei dati. Il primo modo con cui noi entriamo sul mercato è trovare tutte quelle possibilità, tutti quegli spazi in cui oggi vengono generati dei dati, ma il cui valore non viene pagato agli utenti. Ovvero, quando noi inseriamo, per esempio, facciamo, inseriamo i nostri dati per avere una prova gratuita in una palestra, o per richiedere un mutuo, o per, è presente quando vai a confrontare le assicurazioni, o preventivi, vai a ricevere preventivi. Quelle cose lì che, diciamo, poi ti fanno un favore, no? Sembra che ti fanno un favore perché ti mandano dei preventivi. Però di fatto il modello di business di quelle aziende è vendere i nostri dati ad altre aziende. Quello è il modello di business. Quindi noi ci inseriamo intanto in tutti questi settori in cui già avviene uno scambio pratico, diretto, economico, e possiamo redistribuire a tutti gli utenti il valore di questi dati. E quindi è un impatto economico importante. Poi, ovviamente, ora vedremo a quanto riusciremo a ridistribuire. Però l'obiettivo finale è, diciamo, la visione, è proprio quella di creare un protocollo che si possa integrare con tutti. E quindi permettere, tu hai un'azienda, hai un'app, vuoi vedere della pubblicità che ricompensi il valore degli utenti per i dati che stanno utilizzando, puoi integrarti con Udi. Stai tradando dati, vuoi avere dati compliant che sono a norma, che riconoscono il valore degli utenti, puoi integrarti con Udi. Quindi il nostro, diciamo, obiettivo finale è poter essere... Ho rotto... Porca! Per poter essere... Ho distrutto qualcosa. Per poter essere integrati con tutti. No, questo qui è un dato sicuramente fondamentale perché, se no dopo appunto ci sarebbero già delle limitazioni. È che la domanda però mia prossima nasce spontanea. Una cosa, siamo noi trentenni, venticinquenni, che già ci siamo. Tutti coloro che invece in parte ci sono, e parliamo che dei super giovani o dei super anziani. In parte già ci sono sulla rete, i loro dati vengono usati qua e là. Anche perché se vado, non dico in farmacia, ma se vado a volte nei luoghi della sanità stessa, mi vengono chieste dei dati sensibili, ma poi di fatto cosa ne viene fatto? Non lo so, parlo anche di cliniche private, tutto quel mondo là. Quindi quello più fisico, è quello un po' più ignorantello. Come rientra? Allora, intanto anche noi trentenni, ma di tutte le età, tutti i nostri dati in questo momento vengono estratti e sono in possesso di non si sa quali aziende, perché neanche io so quante e quali aziende hanno i nostri dati. Quello che possiamo fare noi, dato che non possiamo imporre uno standard sugli altri, è creare uno standard. Quindi dire noi gestiamo i dati così e creiamo un mercato dei dati nuovo, libero, aperto, che funziona su questi tre principi, che sono trasparenza, controllo e remunerazione. Quindi questo è quello che noi stiamo creando. Detto questo, quello che possiamo fare è mettere a disposizione questo protocollo e lasciarlo utilizzare a chi lo vuole utilizzare, perché comunque creerà dei profili di dati molto più completi. E ti spiego in modo pratico, proprio con un caso di uso. Cioè, oggi noi abbiamo i nostri dati, un po' c'è la Facebook, un po' c'è la Google, un po' c'è la Netflix, un po' c'è la Disney+, un po' c'è lo studio medico sotto casa, un po' ce la... sono distribuiti. E questa cosa qui crea un problema nel mercato dei dati che si chiama siloproblem. Siloproblem che vuol dire che appunto ogni database di dati è un database chiuso che non parla con gli altri database. E ovviamente Netflix non ha nessuna idea a vantaggio a condividere i propri dati con Disney+, anzi, non lo farà mai. Però in tutto questo c'è un piccolo dettaglio, che questi dati in possesso di Netflix e di Disney+, non sono né di Netflix né di Disney+, sono i nostri dati. E quindi noi se avessimo a disposizione uno strumento per farlo, io tranquillamente venderei i miei dati che ho su Netflix e Disney+, e viceversa. E Udi si mette qui, si mette in questo posto qui. E questa cosa qui cosa vuol dire? Al di là di poter vendere dati che prima non erano possibili, diciamo alcune aziende volevano ma non potevano avere, quindi creare anche nuovo mercato. La grande cosa che va a risolvere è il siloproblem, perché io posso creare un profilo dei miei dati su Udi che comprende tutti i dati che ho su Facebook, che ho su Google, che ho su LinkedIn, che ho su Netflix, che ho su Disney+. Quindi andremo a creare un profilo di dati completo che nessun altro ha. E chi vuole quei dati deve passare da Udi. Questa cosa è straordinaria e quindi diciamo che penso che tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento non vedano l'ora che esca Udi per poter partecipare. E poter insomma... Allora, corretto su questo ti dico, faccio subito la marchetta, anche perché giustamente qui non è... è un progetto in cui noi praticamente ridistribuiamo il 70% su tutte le persone e le organizzazioni che, diciamo, prendono parte a questo mercato dei dati, come dicevamo prima, e il 50% va ai data owner, a noi, ai proprietari dei dati. E per questo, in questo momento, come ti dicevo, c'è questo community launch e chi vuole può andare su humandataincome.com, che poi è comunque anche la piattaforma finale dove già si possono caricare i propri dati e tutto quanto avviene lì. Quindi humandataincome.com e già si può prendere parte. Io ne faccio parte, quindi vi do conferma che quello che stai dicendo già non è una menzogna. Da questo punto di vista, anche qui mi sorge un'altra domanda, ma allora avrà valore più utilizzeremo i servizi anche, perché più utilizzeremo i servizi e la rete, più genereremo dati e quindi più il nostro, diciamo, wallet di dati avrà valore fondamentalmente, giusto? Bravissimo. Questa è un'altra grande cosa dei dati, è che più li utilizzi, più cose fai, più valore acquisiscono. Quindi assolutamente sì. Tra l'altro, i miei dati che ho su Facebook hanno un valore. Se io li interfolo con i dati che ho su Google, il valore aumenta. E ogni cosa che noi facciamo oggi su internet, ma anche quando non siamo su internet, ho il telefono qui, anche se non lo sto utilizzando. Lui manda dati ad applicazioni, genera dati, la mia posizione, io ho l'orologio che dice il mio battito cardiaco, tutto quanto. Quindi noi continuiamo a generare dati, siamo vivendo, siamo una miniera che continua a generare dati e più poi utilizziamo questi dati e più questi dati aumentano il proprio valore. Esattamente così. No, infatti questa cosa qui sarà bellissima vedere plotoni di ragazzini che passano le giornate soltanto a guardare serie per poter generare dati. Chiaramente scherzo. Però sarà, è un progetto veramente... Però ci saranno sicuramente dataminer, chi si metterà a minare dati e dovrà qualità per fare ancora più soldi per i propri dati. E più che altro sarà difficile, non lo so, se potrà esistere, magari il vostro sistema è già escludibile, però nel senso che qualcuno dica, no tranquilli, ci penso io a gestire i vostri dati. Quindi qualcun altro che si inserisca trasversalmente e raccolga a sua volta dati per poi dopo ridistribuirli in giro... Però già esistono, noi si chiamano data brokers, che sono proprio gli intermediari dei dati. Infatti la cosa che ti dicevo è che noi all'inizio quando avevamo pensato Udi era un mercato pensato per gli utenti. Cioè gli utenti possono accedere e caricare i propri dati. Poi, guardando, studiando bene l'ecosistema del mondo dei dati, abbiamo visto che esiste oggi, diciamo, quello che insieme ai data giant, i giganti dei dati, che chi usa questi dati per fare profitto, Google, Facebook, eccetera, ci sono i data brokers che praticamente estraggono i dati da noi e li rivendono alle aziende. Questa cosa qui, che oggi, diciamo, loro trattengono il loro profitto, ovviamente, e non ridistribuiscono niente sugli utenti, da quando, diciamo, integrandosi con Udi, hanno la possibilità comunque di fare il loro lavoro integrato con il mercato. Quindi, per quello ti dicevo che nella ridistribuzione noi consideriamo pure le aziende che portano i dati. Se Shopify entra in Udi e porta i dati di tutti i suoi utenti, ovviamente ha fatto un favore al mercato e verrà remunerato ogni volta. Quindi è come nelle canzoni, tu hai dei punti percentuali di proprietà di quel dato e quindi di ritorno economico di quel dato. Se un'azienda porta il... si integra con Udi, tutti i suoi utenti, tutti i dati che ha, li mette a reddito praticamente. Certo. No, questa cosa è... Sembra magia raccontata così, ma non siamo Hogwarts, siamo nel mondo reale e quindi... e quindi, ecco, iscrivetevi pure a Udi, studiate bene quello che è la documentazione riguardante anche Udi e, insomma, rimanete informati, ma le cose sono abbastanza semplici, voglio dire, sono molto chiare e abbastanza semplici. Poi, guarda, su questo mi sento di fare un disclaimer, proprio perché ci può essere pure la domanda dal 2017 che ci lavorate e uscite oggi che è il 2021, proprio perché stiamo parlando di un mercato che non esiste, cioè questa cosa che stiamo facendo con Udi è una cosa che non esiste. Quindi io non sono qui a dire ecco la bacchetta magica, tenete, prendete e mangiatene tutti, no, ma è creiamo insieme questa cosa qui. Ovviamente noi ci lavoriamo tanti anni, abbiamo investito tutti i nostri soldi, tutte le nostre energie, tutto il nostro tempo, la nostra attenzione, anche sacrificando tutto quello che stavamo facendo fino a questo momento. Però è un qualcosa di partecipativo, è proprio lo spirito che nasce dalla decentralizzazione dalle cripto. Il nostro obiettivo finale è quello di creare una DAO, che sarebbe un'organizzazione decentralizzata, la quick governance è decentralizzata, che sarà l'evoluzione delle società per azioni, in cui proprio tutti quelli che hanno la moneta possono decidere sul funzionamento, sulle nuove, sulle milestone, sulle cose da fare e non solo i proprietari dell'azienda, ma distribuire il consenso e le decisioni su tutta la community. Quindi per questo dico Udi non è che è arrivata per il salvatore, la nuova Facebook, cioè Udi è un'idea, una missione, è una piattaforma, è un mercato, ma è tutti noi, tutti quelli che decidono di aderire a questa missione e di dare il loro piccolo contributo, che può essere di qualsiasi tipo, perché poi proprio all'interno di Udi, nella piattaforma, se mi ho mandato Income, tu sicuramente l'hai visto, ci sono delle cose che si possono fare per aiutare la missione e quello che ti dicevo all'inizio, che poi siamo entrati in una bolla, mi sono dimenticato di dirlo, anche il lancio è nato su questa idea. Quindi ti dicevo, noi Hot Lead Marketing abbiamo sempre fatto questo, però invece di fare il lancio di Udi come l'avrei fatto fino a pre-Udi, abbiamo deciso di non dare i soldi ai giganti della pubblicità, ai Data Giant, a Facebook, a Google, eccetera, ma di permettere a tutti gli utenti di Udi di far conoscere Udi agli altri e quindi abbiamo chiamato marketing decentralizzato. Ogni azione, ci sono delle azioni che si possono fare che vengono ricompensate in Udi. Questa cosa che mi fa venire in mente è la parola necessità, nel senso che a me spesso mi viene chiesto perché faccio l'editore e soprattutto perché ho cominciato che avevo 26 anni, una cosa così, quindi dico ma sei pazzo, no? Tu pensi alla carta e il mondo invece sta pensando al digitale. E la mia risposta è perché è necessario, cioè a prescindere dai risultati che si possano avere, che chiaramente bisogna avere quelli di alto profilo, comunque si punta ad avere quelli di alto profilo e dall'alto impatto, ma in realtà anche le piccole cose sono importanti. E quindi un progetto editoriale è necessario ed è necessario per il retaggio, è necessario per la comunità attuale, è necessario soprattutto per la comunità futura. Iden vale per Udi, un progetto così ambizioso, a prescindere, tu dicevi, hai sacrificato tanto a livello economico, a livello di tempo, a livello di attenzione, a livello di tante cose sicuramente, però è necessario. Cioè un progetto così è un po' come da grandi poteri derivano, grandi responsabilità, cioè voi siete alzati con un'idea e avevate il potere di metterla in atto, sacrificando tanto. Se non l'aveste fatto, non vi sareste prese responsabilità sociale e di retaggio nei confronti di quello che invece potevate fare. E quindi è una cosa eticamente straordinaria quella che avete messo in piedi, quindi la necessità del progredire insieme appunto, passo dopo passo, magari un po' più lentamente, ma come comunità è veramente molto molto bello. Ecco, quindi complimenti. Guarda Corrado, ti dico una cosa perché hai toccato un punto che mi fa veramente, cioè mi fa emozionare, nel senso che c'è una frase che a me ha cambiato proprio il modo di vedere il mondo, che dice la grandezza di una persona non è data da quello che riesce a ottenere, ma da quello che riesce a dare. E ha cambiato completamente il mio modo di vedere la realtà. Cioè nel senso, prima ero molto più focalizzato su quello dove riuscivo ad arrivare, dove riesco ad arrivare, cosa riesco a ottenere, chi riesco a diventare. E quando ho riflettuto su questa frase è switchato qual è il più grande impatto che riesco a dare. Ed è tutto qui, cioè da qui nasce anche il fatto che creo contenuti, per dirti, che cerco di trasferire le mie competenze. Cioè quanto riusciamo a collaborare con gli altri, a creare strumenti di collaborazione con gli altri per avere un impatto di cui possono beneficiare ancora più persone. E Udi nasce proprio da questa idea qui. Cioè è una cosa che se io, oggi ne parliamo, siamo io e te, non abbiamo miliardi di persone che ci stanno ad ascoltare, siamo una piccola nicchia, stiamo parlando in italiano, una lingua di nicchia che, come dice Zizek, non è la lingua del capitalismo globale. E quindi è una cosa che fa anche ridere, sembra che questi vogliono cambiare il mondo, sono qui in italiano. Anche se 100.000 persone intanto ne abbiamo... Così. Sono entrate. Sono entrate. Però ecco, se uno non... Cioè ti dico, a me spaventa tantissimo questa cosa qui. Ora te lo dico in camera caritatis, tanto non fare in giro del mondo quest'audio. Perché veramente e soprattutto negli ultimi mesi mi sono trovato che avevamo messo tutto. Cioè io a livello finanziario non avevo altro da mettere, non sapevo più da che parte andare. E quindi questa cosa qui secondo me è il vero driver del progetto di Udi. Cercare di creare un qualcosa che possa avere un impatto nel mondo ma concreto. Quindi creare uno strumento che possa ridistribuire ricchezza. Perché di questo parliamo. Parliamo di oltre un triliardo di dollari che oggi sono nelle mani di poche multinazionali, le aziende più grandi al mondo che hanno creato i più grandi miliardari. Sentiamo adesso che Bezos, Musk, Zuckerberg pagano meno tasse di me di te. Cioè che è una cosa incredibile. Però ecco, la soluzione in un mondo globale in cui ancora ci sono stati nazionali che cercano di trovare soluzioni locali a problemi globali, l'unico modo per risolvere questi problemi per ora, io che non sono politico e che ci vorranno forse secoli per creare qualcosa di globale, a meno che non arrivano gli alieni ci mettiamo tutti d'accordo, sono comunque soluzioni globali che partono allo stesso livello in cui sono state create. Quindi dall'impresa, dal layer del capitalismo, ma un capitalismo con un upgrade che non pensa solo ai proprietari dell'azienda ma che pensa alla comunità, che pensa alle persone. Guarda, io credo che possiamo lasciare i nostri ascoltatori con queste ultime parole perché alla fine il nocciolo della questione è questo qua. Cioè quello etico forte è questo. Poi dopo la manifestazione, ieri era, non lo so, un progetto X, oggi è Woody, tra cent'anni chissà cosa sarà. Tra l'altro Woody, qui lo spoilero, sarà presente anche come progetto all'interno del fumetto Counterpoint scritto da Alessandro Carnevale e Davide De Biasio, quindi proprio come modello... Miraviglioso. Già entrano nella cultura. Esatto, esatto, esatto. Quindi sono davvero orgoglioso. E poi Gianni, partiamo poi che è passato tipo 45 minuti e non mi sono nemmeno reso conto. Impressionante. Quindi io ti ringrazio e insomma credo proprio che ci sarà molto spazio prossimamente per farci un'altra chiacchierata, a prescindere da Woody, perché insomma abbiamo tante cose tra l'altro di cui parlare, ma niente. Ora non spoileriamo. Non diciamo niente. Chi vuole intendere, intenda. E se non sei in tenda, vai su Woody. Niente, Gian, ti ringrazio davvero tantissimo per il tuo tempo e per questo progetto. Corrado, grazie mille a te e un saluto a tutti i podcasters che in questo momento ci stanno ascoltando e ci sentiamo presto. In bocca al lupo. Ciao a tutti. Ciao Gianni. Avanti tutta. Vive il lupo. Ciao. Sei su Polignani Podcast. Il posto giusto per voltare pagina.